I minori e i suoi diritti è il tema che è stato dibattuto oggi presso la sede della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di Gela nell'ambito della giornata dell'Unicef. L'iniziativa è stata coordinata dal dirigente scolastico Agata Quelli. La nostra scuola da anni è scuola amica Unicef. Abbiamo pensato che fosse questa un'occasione straordinaria per poter coniugare entrambe le cose e dedicare una giornata ai diritti dei bambini e soprattutto anche alla raccolta per l'Unicef e nel contempo anche dare spazio alla creatività dei bambini. Tutto questo è stato possibile grazie all'intervento di straordinari insegnanti che mi collaborano. Una fra queste è appunto la professoressa Di Rosa che ha curato questa giornata particolare. Ho cercato appunto di realizzare questa giornata di solidarietà, di sostegno, di aiuto per i minori in disagio e in difficoltà in linea con quella che è stata sempre l'usanza della scuola perché da sempre la Mattei si è spesa in questo. Presenti questa mattina tra gli altri Carmelo Barretti rappresentante dell'Unicef e infettivologo e Viviana Altamore avvocato civilista. I diritti dei minori sono riconosciuti ormai a livello nazionale, a cominciare dalla carta costituzionale e a livello delle istituzioni europee e della comunità internazionale. Certamente non bastano le affermazioni di principio, occorre poi che tutte le istituzioni collaborino tra di loro per fornire un sostegno all'infanzia e quindi meritorio è lo sforzo della scuola nel formare i giovani come capitale umano. In questo mese ricorre il settantesimo anniversario dell'Unicef. Sappiamo che l'Unicef è stato fondato nel 1946 ed è tutta la sua azione rivolta. Lo scopo è stato quello di aiutare soprattutto i bambini che sono stati vittime della Seconda Guerra Mondiale. Dopo i momenti di riflessione e gli interventi sui diritti dei minori, Donna Lino di Dio a Benedetto ha inaugurato il presepe di cioccolato interamente realizzato con prodotti dolciari arricchito da biscotti, zucchero e salatini. La giornata si è conclusa con il sorteggio e la vendita di prodotti tipici realizzati dalle mamme e degli stessi alunni della scuola e il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all'Unicef. L'iniziativa di oggi è stata accompagnata dagli interventi musicali di Ottavio Duchetta. Abbiamo lavorato da metà ottobre, inizio novembre con i ragazzi, coinvolgendoli anche negli orari pomeridiani. Abbiamo avuto, devo ringraziare innanzitutto la preside perché ha creduto in questa iniziativa, devo ringraziare le mamme che sono state veramente splendide nel collaborarci e grazie a loro è stato reso possibile questo laboratorio. Le colleghe che mi hanno sostenuta e i ragazzi che hanno dato veramente con la loro espressione, con la loro vitalità, con la loro creatività, hanno reso possibile questo presepe che è un presepe di cioccolato ma è un presepe anche multisensoriale perché coinvolge tutti i sensi.